Ciao sono Daniele per gli amici Subri e oggi voglio parlarvi di negozio su ebay prima di farlo però ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno nelle scorse settimane abbiamo visto come mettere un oggetto all'asta ma anche vendere un oggetto in compralo subito come farlo in Italia in Europa nel mondo come spedire e tutto quello che riguarda l'inserzione di un oggetto su ebay ma manca una cosa importante ovvero come e a chi conviene aprire un negozio perché ci sono alcuni pro e alcuni contro da analizzare con attenzione quindi iniziamo come prima cosa prendo un articolo disponibile direttamente su ebay che giustamente fa presente tre cose importanti prima di aprire un negozio ovvero creare un account cosa che abbiamo già visto su un altro mio video capire le funzionalità del negozio per confrontare i vari pacchetti cosa che vedremo a breve ma soprattutto controllare i limiti di vendita di un account tutti i nuovi account hanno dei limiti e mi sembra anche giusto perché altrimenti un truffatore potrebbe aprire un account su ebay mettere tantissimi oggetti per poi non spedirne nessuno ed incassare i soldi per poi sparire mentre in questo caso i limiti servono proprio per tutelare gli acquirenti e anche per avviare i nuovi venditori ma non vi preoccupate perché sono limiti che si possono comunque alzare sia in tempi rapidi sia in tempi un po più lunghi dipende anche da quante vendite farete però per aprire un negozio su ebay c'è bisogno di fare una distinzione perché ci saranno distinzioni tra negozi per privati e negozi per aziende partiamo dai negozi che possono aprire anche i privati e dalla dashboard normale classica quella di ebay si potrà accedere alla sezione del negozio in questo caso un utente privato pagherà il negozio base 16,35 euro al mese al netto delle tasse le tariffe cambieranno rispetto ad un account senza negozio e si avrà il vantaggio di avere un home page dedicata la cosa che sicuramente farà apparire il negozio più professionale in genere l'account più professionale ma ovviamente tutti vi potreste chiedere ma chi può aprire un negozio su ebay tra i privati e la risposta è semplice perché lo possono fare pressoché tutti ebay infatti fa presente che il negozio è per tutti quelli che dispongono di un account venditore di ebay e mettono in vendita gli oggetti in formato compralo subito per poter aprire un negozio basterà cliccare sull'apposito tasto seleziona e rivedi inserire il nome del negozio ed inviare l'ordine poiché qua ci sarà da inserire il nome del negozio vi consiglio di seguire molto bene la guida che ebay rilascia per scegliere il nome corretto ci saranno infatti una serie di linee guida da seguire molto importanti per evitare di andare contro le regole della piattaforma oppure contro le regole di alcuni marchi registrati una volta che avrete aperto il negozio ci sarà la possibilità di inserire un'immagine di copertina oppure di fare le categorie all'interno del negozio cambiare anche un'immagine magari di profilo per renderlo più professionale e tante altre cose molto interessanti ma ovviamente la domanda principale potrebbe essere conviene o non conviene aprire un negozio su ebay la convenienza potrebbe esserci o non esserci in base alla vostra strategia di vendita perché sicuramente un negozio vi farà apparire più professionali vi darà la possibilità di abbattere anche le commissioni e ci sarà ovviamente la possibilità di selezionare un'immagine di copertina magari cambiando anche quella di profilo avere delle categorie interne e tante altre cose interessanti con però un abbonamento da pagare e questo andrà pagato sempre sia che voi facciate zero vendite una vendita 10 vendite 200 vendite all'interno del mese non cambia l'abbonamento dovrà sempre essere pagato alla piattaforma giustamente però potreste chiedervi beh ma se apro un negozio devo quindi avere una partita iva assolutamente no questa soluzione è studiata apposta per i privati che vogliono avere un negozio ma non hanno la partita iva ovviamente ebay non starà a controllarvi dicendo è ma tu dovresti aver la partita iva perché secondo me vendi troppo vendi poco non è più sporadico e quant'altro questa è tutta a gestione ovviamente del venditore che poi se la vedrà con il fisco in questo caso italiano qua però si parla di puramente vendite online sporadiche sulla piattaforma di ebay tramite un negozio che dà ovviamente dei vantaggi in più nulla a che vedere con tasse e quant'altro chiuso il discorso per i privati però vediamo chi invece ha la partita iva che cosa può fare su ebay e soprattutto chi volesse passare da un negozio privato ad un negozio con la partita iva come può fare e quali sono le cose che cambiano chi ha la partita iva e vende regolarmente su ebay ha dei costi di inserzione per quanto riguarda gli annunci in compra lo subito ed anche in asta online quindi in genere sceglie di fare il negozio in questo caso però lo store può avere un costo base di 24,95 euro fino ad arrivare a 179,95 euro la differenza di prezzo è così ampia perché dipenderà da quanti annunci il negoziante decide di mettere sulla piattaforma attenzione però perché cambieranno anche le commissioni sul valore finale e questo è da controllare prima di decidere di aprire un negozio sulla piattaforma la commissione sul valore finale infatti cambierà in base alla categoria ad esempio i dispositivi tecnologici avranno una commissione del 6,5% mentre il ricambio auto e moto del 12% insomma ogni categoria avrà il suo valore finale come commissione è bene controllarle prima anche in questo caso si potrebbe decidere se ne valga la pena oppure no aprire un negozio sulla piattaforma ma dipende tutto dal volume d'affari del negozio infatti c'è chi potrebbe volere negozio quello premium per avere tantissimi annunci a disposizione e pagarli solo 5 centesimi l'uno oppure chi può volere il negozio quello più base e magari iniziare con 400 inserzioni pagando le 10 centesimi l'uno tutto dipende dal volume d'affari che volete instaurare sulla piattaforma a prescindere che voi comunque vogliate aprire un negozio o meno sulla piattaforma con o senza partita IVA che sia i vantaggi sono presto detti ci sarà infatti la possibilità di aggiungere più prodotti ed organizzare meglio lo spazio di vendita diviso per categorie si avrà la possibilità di creare un vero e proprio store come se fosse un e-commerce e soprattutto si avranno a disposizione più di 100 milioni di utenti che sono sempre attivi sulla piattaforma ad ebay in tutto il mondo io spero di avervi riassunto come si apre un negozio sulla piattaforma ma per qualsiasi altro dubbio domanda o vostra esperienza lasciatemi un commento